C'era questa cena in un'ora di 300 giapponesi nella quale si sarebbero assaggiati i nostri prodotti e mio padre era stato invitato per promuovere e spiegare un po' quella che è la cultura nostra pugliese, culinaria e alimentare. Stamattina, nelle primissime ore dopo il terremoto, non siamo riusciti assolutamente a metterci in contatto. Io personalmente ho chiamato anche la Farnesina a Roma dove mi hanno passato l'unità di crisi e mi hanno detto che era impossibile mettersi in contatto telefonicamente con Tokyo perché le linee telefoniche erano saltate oltre anche all'elettricità. Dopo poco abbiamo avuto una chiamata da mio padre, molto molto breve, sono riusciti praticamente a chiamarci tramite Skype su telefono fisso e dall'Istituto Italiano di Cultura dove si trovavano al momento della scossa di terremoto e quindi l'Istituto ha messo a disposizione la linea internet perché al momento è l'unica cosa che sembra aver resistito. Ci hanno detto soltanto che c'è stata tanta paura, che comunque le scosse continuano, però loro stavano bene. Grazie a tutti.